E i ciclisti? Esistono e come, con tanto di banda regimentale e manifestazione bellico-sportiva. Reggersi in sella, abbandonando il manubrio per pestare sui tamburi e dar fiato alle trombe, manovrando contemporaneamente in parata, non è da tutti. I fanti ciclisti olandesi ci riescono. Dice, ma vuoi mettere i nostri bersaglieri? Bisogna pensare però che i ciclisti d'Olanda, anziché bere fiaschi di chianti, annusano tulipani.